Presented by Geconomican.net E magari questo ha fatto sì che qualcuno potesse andare a giro con la sua copia di Harry Potter sotto braccio senza essere preso in giro dai vicini o dai colleghi di lavoro. Emanuele, una domanda poi a proposito di saga per Terry. Ora voglio, facciamo una domanda di Stefano dal pubblico poi si torna ad Alessandro, io devo dire, ora voglio giocare un po' con il pubblico in questo senso. Allora io sono completamente d'accordo con Terry, io preferisco l'approccio americano delle copertine, è quello che ci ha permesso di conoscere gli artisti americani che poi portiamo qui. E se non fosse stato così forse noi non avremmo conosciuto questi artisti. Quindi la prima domanda al pubblico però prima di fare la domanda a Terry, chi farà la domanda deve donarci la sua impressione sulle copertine italiane di Terry ora, di Terry Brooks. Se questa filosofia, questa differenza di filosofia fra gli Stati Uniti e l'America, se gli piace o meno, ok? Ci state? Vai, sei già lanciato. Eccolo lì. Mi rendo conto che l'approccio americano viene da un mercato più intenso, per cui l'approvo però personalmente preferisco il taglio unico in tutta la saga. La domanda che volevo fare riguardo all'adattamento di un lavoro, perché non è possibile scegliere un diverso formato come per esempio lo sceneggiato televisivo che essendo molto più lungo imprime meno il problema dell'accorciare i tempi. Well, as to the question about the screenplay for a television series, as opposed to doing a movie, that would certainly be an option. Uh, nobody has ever approached me, as far as I can remember, about adapting Shannra, for example, as a television series. It's always been about making it a full, full length movie. Um, and I suppose because the thinking may be that it's a big sweeping epic, uh, and it belongs on a bigger screen, which I think is, you know. I don't think that's right, but that seems to be the thinking at the moment, and it certainly could change. Rispondendo alla tua domanda, finora non è mai stato proposto di fare una sceneggiatura, ad esempio di Shannara, per un sitial televisivo. Di sicuro è una cosa, un'opzione che avrebbe anche senso fare, ma probabilmente gli editori, i registi, i produttori, vedono in Shannara tematiche epiche e grandiose che meglio si adattano al grande schermo invece di quello televisivo. Opinione, secondo lui, assolutamente folle. Let me throw something out that we haven't talked about, uh, about this cover art business. Uh, one of the things that, uh, is true about people who buy the books in the United States with those specialized covers is that a lot of readers collect the books for the art. Um, and they, they want the different editions with the different cover art and the interior art when there's interior art involved. and, uh, for a long time I've been asked if we're ever going to do, uh, any further interior art and, in fact, we're looking to put interior art into a series of books that I'm going to be writing, uh, over the next three years. So, you can take that, uh, for what it's worth and maybe it will happen. E, ritornando un attimo, però, sulle copertine c'è una cosa che volevo aggiungere, perché una, una peculiarità del mercato americano è che, uh, c'è una sorta di collezionismo dei libri in base anche alle illustrazioni che ci sono sulla copertina. E quindi è molto gradito il fatto di avere nuove edizioni con copertine con artwork diversi e lo stesso discorso è valido anche per, uh, le illustrazioni interne dei libri. Quindi è stato chiesto svariate volte di fare nuove edizioni con, aggiungendo magari, dove già non erano presenti, delle illustrazioni, degli artwork interni al, al libro, al libro stesso. Sì, però, parlando un momento, un problema di e-book, uno dei problemi di erosione di sale di paper books per e-books è che tutto il loro è lato è il printe, ma se c'è un art in il libro, o art on il cover, non c'è un problema con le e-books, la stessa cosa che lo faccio con il hardcover book, soprattutto se ti piace con le art. E uno dei punti a sfavore, diciamo, degli e-book, che hanno comunque acquistato una corposa quota del mercato, o quantomeno negli Stati Uniti, è che gli artwork, le illustrazioni, di solito non sono incluse nell'e-book e questo potrebbe portare in un futuro a marginalizzare l'importanza degli artisti, dei copertinisti per andare incontro al pubblico, ai lettori elettronici, dei libri formato elettronico che non hanno interesse negli artwork. Non è una cosa che viene inclusa nel pacchetto dell'e-book. Per quanto riguarda le copertine, volevo dire che in Italia, ultimamente, anche sui suoi libri, secondo me non si sa un po' più che pesci pigliare. Cioè non si usa più la tecnica, come ha detto lui, do il libro al disegnatore, scegli la scena che ti piace di più e fai un disegno, ma si mette insieme delle cose un po' confuse. Su una delle ultime edizioni delle pietre magiche mi pare che compare addirittura uno del percorso archeologico che è una statua a stele. Vabbè, lì il discorso potrebbe essere quasi un altro meeting a parte. L'Italia ha anche altre complessità in generale sulla collocazione dei libri e magari Alessandro, che è anche editor di Armenia, potrebbe raccontarci a volte quello che succede. Perché non è solo la questione di avere la costolina tutta uguale, ma che ci sia un artwork che abbia senso. George Martin hanno preso Fantastoria di Tarlazzi e ci hanno sbattuto le tavole di Tarlazzi che erano un progetto grafico suo. Sì, sì, molte volte lo fanno per non pagare. Per non pagare. Non c'è questa cosa, ma molte volte si mettono delle copertine a caso, impacioccate, di più artisti per non pagare un artista. Perché non abbiamo questa cultura, non è delle copertine. Un padre è un reperto archeologico che assolutamente, ovviamente, non ha nulla a che vedere. Certo, e tra l'altro non hai copyright. Se tu prendi la sfinge, metti una foto della sfinge, non hai copyright da pagare. Eh sì, certo. Le sfingi è successo. Gli autori sono andati ormai. Comunque, per venire la domanda. Torniamo a Terry Brooks. Sì, vengo alla domanda. E probabilmente è una domanda a cui avrà già risposto milioni di volte. Vorrei sapere qual è uno dei suoi autori di fantasy preferito e se attualmente legge fantasy, qual è uno dei suoi autori emergenti preferito. Grazie. Well, I think that the work of Brett Weeks, out of the U.S., who's fairly new, I think his work is very good. I like V.A. Reddick's work. He's out of, I think he's out of the U.S., too. He might be out of England, I can't remember. He writes, writes The Rats and the Ruling Sea and The Voyage of the Red Wolf. I think they're both very talented. I actually read new writers all the time whose work is quite good. On the U.S. market, I don't see much from anywhere else. Not even England, interestingly enough, even though those are English books. Many of them never make it over to the U.S., so I don't get a chance to read them. Okay, dice, tra i suoi autori, lui legge moltissimo autori emergenti di fantasy, quindi perché comunque fa parte del suo mondo. Tra gli autori che preferisce comunque sono Brett Weeks e Reddicks, ma comunque non vede, a passi si escludono gli Stati Uniti, dove il mercato ha anche dei giovani scrittori abbastanza vivace, anche in Inghilterra che ha comunque un retaggio più stratificato di fantasy. Come nelle altre parti d'Europa, non è che veda tantissimo fermento o grandi cose all'orizzonte. As far as existing authors, established authors go, again, I don't have one author that I would point to as a favorite. I think Bob Salvatore's work with Dark Elf is excellent. Dritz, I think that Naomi Novik's take on the Napoleonic Wars with Dragons as warships is astonishing, what a great idea, I wish I'd thought of it, it's really hard for me to pick any any particular author, I really think there's too many of them to choose between. E per quello che riguarda invece gli autori più famosi, ce ne sono tanti che comunque continuano a scrivere, quindi per lui è anche difficile identificare qual è effettivamente uno il suo favorito. Comunque c'è da dire, scusate, che Salva Bob Salvatore ha fatto un lavoro fantastico con gli Elfiscuri, tutta la saga di Drist, gli è piaciuta moltissimo. E lo stesso un'ottima idea, Novax, nell'unire una saga in epoca napoleonica con il fantasy e i draghi, è un'idea che se non ho capito male aveva avuto anche lui ma comunque ha apprezzato tantissimo. Peraltro mi viene da dire, ribadisco, forse per chi non l'avesse saputo durante i primi incontri, io farei un applauso a Bob Salvatore a cui va buona parte del merito se lui è qui oggi, perché è stato lui a perorare la causa di Luca e dei fan italiani. Luca è anche patria del comics e cosa pensa del lavoro invece fatto con i fumetti tratti dalle sue saghe, con le graphic novel tratti dalle sue lavori? Well I knew this question would come up sooner or later, and the truth is I don't read comics anymore. I was heavily into reading comics for many, many years. I actually collected comics back in the 50s and 60s and I have 13, 14 boxes of first edition comics in my collection but somewhere along the way I fell away from following them closely, probably because my time didn't allow me to be involved with them as much as before and so as a result I'm not really aware of what's going on in comics the way that I am with books and say movies well, I know that this question before or after that, he would have come out comunque, he dagli anni 50-60 ha iniziato a leggere molti fumetti, aveva 13 o 14 scatole piene zeppe di prime edizioni, poi a un certo punto, lungo il periodo lungo questi anni, ha smesso, ha perso interesse nel mercato dei fumetti e quindi non è che ne sappia più di tanto, nemmeno dei suoi, di quello è appunto nelle cose inerenti al mercato dei fumetti, invece è molto più esperto di quello che riguarda i suoi libri e il film Salve in pratica, riguardando gli ultimi due libri scritti da te in America il Princess of Landover e l'ultimo di Scenara Bearers, non ricordo l'esatto titolo quando verranno pubblicati in Italia non so se già state fatte questa domanda sabato la Mondadori che sta facendo è divertente vedere che questa domanda è venuta fuori spesso in questo fine settimana non durante il meeting di sabato non durante il meeting di sabato non durante il meeting di sabato probabilmente anche durante il meeting di sabato praticamente ogni venue che ci sono state fatte e la domanda è una domanda e non vedo la domanda ma ti vedo la domanda grazie a tutti